Fiorentini, partner d'eccellenza per la progettazione e distribuzione di macchine per la pulizia industriale. Grazie per la visione! L'azienda, con oltre 30 anni di esperienza, si pone come leader di mercato a livello mondiale nel settore di riferimento. Il marchio Fiorentini è sinonimo di qualità, compattezza e robustezza. L'azienda propone macchine ed attrezzature di qualità superiore ed in grado di superare tutte le aspettative del cliente e le caratteristiche della concorrenza. Il nostro staff è in grado di studiare soluzioni personalizzate, adatte ad affrontare diverse tipologie di impiego, anche di nicchia, con professionalità e competenza. Spazzatrici, lavapavimenti, motoscope, monospazzole, lavamoquette, nonché una vasta serie di aspirapolveri professionali. L'ingegner Osvaldo Fiorentini è in grado di esaudire ogni richiesta, anche la più esigente. Le nuove progettazioni offrono soluzioni all'avanguardia, sfruttando tecnologia di ultima generazione con un design pratico, funzionale ed elegante. Per assicurare alti standard qualitativi che distinguano l'azienda sul mercato, ha strutturato le attività con un sistema organizzativo efficiente ed efficace. L'azienda dispone di un eccellente staff tecnico continuamente informato sulle ultime novità di settore, capace di garantire assistenza costante al cliente nel servizio e nel post vendita. Per assicurare alti standard qualitativi che funzionano soluzioni all'azienda costante al cliente nel servizio e nel servizio e nel servizio e nel servizio.